Cari amici, buongiorno, faccio questa storiella non tanto per tutelare me ma per i miei amici che sono ritirati in mezzo a situazione veramente ridicola Nell'unico giorno libero che ho, devo perdere le due ore della mia vita per andare a denunciare un cretino che si inventa che ieri lo abbiamo picchiato in sei a lui e la sua amica Ma poi chi è questo personaggio? Cosa ovviamente mai successa, ma chi è questo personaggio? È uno che campa proprio così, cioè inventa storie, offende, minaccia, sperando di essere picchiato e risarcito Addirittura c'è un servizio delle iene su di te che dice chi sei, che sei un pagliaccio represso fallito che spera di campare così, capito? Detto questo, prima di dare il violento agli altri devi assicurarti che la tua ex non posti storie in cui dice che tu ne hai fatto violenza psicologica e non, capito? Quindi fatti capire, servono le prove e tu non hai né referti medici, né foto, né video, tutte chiacchiere Purtroppo adesso deve farci un po' l'abitudine perché queste cose qui mi sembra che siano un po' all'ordine del giorno Vi lascio così al prossimo video, ciao!